una vergogna è un quarto d'ora vi è stata fa i gestaci con le No, ma che ha capito? Ma si tratta così un passeggero? Che ha capito? Questo è un mio collega, è sordo muto, questo è il linguaggio dei segni. Dice che hai attaccato all'una? Dico no, ho attaccato alle due. Ma che per caso passi a Via dei Cappellari? No, all'imbocco di Santa Passe. Allora se sentimo quando rimonti, gli ho detto sali, che a te? Le porto in piazza. Dice no, vado a cazzeggia in centro. Eh, au, allora se ribeccamo quando stacco. Ma lei per caso va a Numa Compiglio?